L'onorevole Gucciardi, candidato alla Regione del 28 ottobre, oggi incontra Crocetta. Allora, cosa chiedere a Crocetta, cosa può fare per la Regione? Chiedere di realizzare il nostro straordinario progetto di cambiamento, la rivoluzione che dice Rosario Crocetta, la rivoluzione semplice, la rivoluzione per dare ai cittadini quei progetti che purtroppo in questi anni non hanno avuto. Un errore di programmazione ha determinato il disastro dell'agricoltura nella nostra provincia, nella nostra regione, un errore nella pianificazione di quelli che sono i progetti di sviluppo della nostra regione ha determinato la mortificazione di ogni sviluppo per la nostra provincia e per la nostra regione, le infrastrutture, le cose di cui parla Rosario Crocetta. Oggi è venuto qui in provincia di Trapani, la sta girando in lungo e largo per come retestimoniare con la sua presenza fisica quello che è il nostro straordinario progetto di cambiamento. La Sicilia ce la può fare, i siciliani hanno compreso, Rosario Crocetta sarà Presidente della Regione, la Sicilia davvero si prepara ad essere quel ponte verso i paesi del Nord Africa, il baricentro del Mediterraneo perché i siciliani meritano davvero di realizzare questo sogno di una regione normale, di una regione che davvero possa assicurare ai propri figli la possibilità di costruire una famiglia, di costruire una dimensione di vita e di prospettiva che in questo momento probabilmente è stata mortificata. Quindi una politica fatta fra la gente? Una politica fatta con la gente, bisogna ascoltare la gente, l'antipolitica che in questo momento è la cosiddetta antipolitica che si diffonde deriva esattamente da questo, la gente non si sente ascoltata, la politica da anni, da troppo tempo non ascolta più la gente, non ascolta le sofferenze che ci sono in mezzo ai cittadini, in mezzo alla gente. Allora la politica per la gente, questa è la politica di Rosario Crocetta, del mio partito e della coalizione che lo sostiene. Siamo con il candidato alla regione, Rosario Crocetta, da Gela alla regione siciliana, cosa si può fare per cambiare le cose? Da Gela anche da Bruxelles perché in questi anni i siciliani mi hanno letto come parlamentare europeo e quindi ha avuto modo anche di acquisire un'esperienza più vasta. Dobbiamo darci un programma serio di grandi contenuti produttivi, dobbiamo cominciare a utilizzare i fondi europei, quei fondi europei che la Sicilia non utilizza, su 6 miliardi e mezzo di euro stanziate, in 4 anni ne sono stati utilizzati solo 809 milioni, è uno schifo, 12,38%, dobbiamo sburocratizzare, è impossibile che una licenza di costruzione si debba attendere 3-4 anni o un'autorizzazione per aprire un albergo, è chiaro che questo blocca le attività produttive e quindi le autorizzazioni dovranno essere date in 3 mesi attraverso il sistema delle conferenze di servizio permanente, occorre investire sulle nuove tecnologie come per esempio il solare, semplicemente mettendo i pannelli solari negli edifici pubblici dei comuni risparmieremo 2 miliardi e 750 milioni di euro l'anno e creeremo 24 mila posti di lavoro e riceveremo dall'Europa altri 5 miliardi e mezzo, allora si può fare seriamente, il problema è che noi dobbiamo fare piazza pulita di una classe dirigente che invece di pensare all'interesse pubblico fino adesso ha pensato agli interessi privati, agli interessi delle cast, delle cricche, consulenti e dirigenti pagati a 500-600 mila euro l'anno e noi dobbiamo fare rigore senza fare macelleria sociale aiutando invece le classi più deboli e favorendo l'inclusione sociale che è esattamente l'opposto di quello che si fa oggi. Quindi legalità prima di tutto anche per riottenere la fiducia dei cittadini? Legalità come sistema per affrontare un nuovo rinascimento come elemento di crescita, c'è stato un ragazzo, mi ricordo una famiglia di Mazzarino, padre, madre e figlio, a un certo punto dopo una conversazione il ragazzo ha detto un travaglio non c'è perché c'è la manciuglia, allora voglio dire togliere la corruzione, togliere la manciuglia e creare lavoro e sviluppo, questo è il mio programma, molto semplice.